Il mio compito è raccontarvi in maniera molto rapida quella che è stata la storia del Cervo Sardo in Sardegna, il passaggio dal Calvario che lo ha portato quasi all'estinzione, alla situazione attuale che 40 anni fa era semplicemente fulli a sperare. Nel fare questo darò volto alle persone, non a tutte ovviamente, ma alcune persone che si sono distinte nel male, se così possiamo dire, ma anche ad altre, poche per questione di tempo, che invece hanno operato per la rinascita del Cervo. E nel dare volto alle persone racconterò anche qualche aneddoto per far capire come la situazione che si è venuta a creare oggi ha avuto a che fare con delle difficoltà semplicemente inimmaginabili, cioè semplicemente pensare che ciò che sentirete, alcuni aneddoti che sentirete, potevano essere degli ostacoli per la rinascita del Cervo. Eppure così è stato e sarebbe molto interessante in un futuro dedicare proprio una giornata, o quantomeno un po' di tempo abbastanza largo, per proprio ricordare questi veri e propri paladini del Cervo che hanno fatto in modo che il nostro Cervo sia tornato ad essere la splendida realtà che in questi giorni sta, di cui stiamo parlando in questi giorni. Sissuorane. Sissuorane è il nome di uno dei cacciatori di Cervi. Siamo in Baronia, siamo in Baronia, diciamo intorno sino agli anni 50-60 del secolo scorso. In questa immagine lui ha già 80 anni e non poteva essere ambientata in maniera migliore. Un palco che fa da appenditoio la lanterna ad olio di lentischio. Un'immagine d'epoca. Sissuorane fu un grande cacciatore di Cervi. Lo chiamavano, allora, chi uccideva i Cervi? Tenete bene che siamo ben oltre il 1938, cioè l'anno in cui il Cervo diventa specie protetta. Eppure lui era talmente bravo che dove c'era il problema di uccidere l'ultimo Cervo chiamavano Sissuorane, perché allora chi uccideva i Cervi era un eroe, non era un criminale, tra virgolette. Uccise l'ultima Cerva nei monti della Baronia, Sardegna centro-orientale, nel 1956. E per farvi capire come l'uccisione di un Cervo, appunto, tutto era, a meno che un dato negativo, quella Cerva fu distribuita in piccole parti in tutto il vicinato, Sispinio, il dono, per celebrare l'avvenimento, celebrare l'ultima cattura del Cervo. Torniamo molto indietro, lo abbiamo appena sentito. Abbiamo appena sentito i primi rapporti tra l'uomo di Sardegna e il Cervo sardo. Utilizzato molto, lo conoscevano molto bene i nuragici, e lo utilizzavano per esempio come protome per delle navicelle votive. Però, ovviamente, lo cacciavano anche. E per capire quanto ciò fosse realtà, abbiamo questa splendida rappresentazione sociale, rivenuta di Stirfili in un tempio nuragico, dove ci socia il Muflone, c'è il Cervo, ma soprattutto c'è l'Arcere che caccia il Cervo. Ed è probabilmente uno dei bronzetti in cui appare senza ombra e di dubbio evidente quanto il Cervo, forse preda comune, ovviamente, dell'uomo dei nuraghi. Nei secoli a venire, il Cervo in Sardegna, lo abbiamo visto diffusamente in molte immagini di oggi, era diffusissimo. Per capire quanto era diffuso, più che gli schemi abbastanza freddi, usiamo le parole. Andiamo a frugare nel dizionario del Casalis, siamo intorno al 1820, per vedere i dati. Intanto, come veniva definito nelle varie contrade il Cervo e il Daino, solito selvaggiume, che dà l'idea dell'abbondanza molto più dei grafici o delle macchie nere geografiche nelle aree interessate. Questo fatto è stupefacente. Tale Giovanni Caddeo di Buttifigari, per una ragione che non riusciremo mai a capire, fatto unico nella storia della Sardegna, annotava meticolosamente le sue catture. E in 60 anni di catture, animali ne ha preso veramente tanti. 2084 Daini, 1843 Cervi. Vuol dire una media mensile, se non giornaliera, veramente molto, molto, molto elevata. Di questa abbondanza, ovviamente, ne hanno approfittato. Sia prima che dopo il divietto, i sardini di tutte le parti della Sardegna. Brevemente, va fatto l'accenno ai tagli delle foreste. Non per entrare nel discorso di che cosa significarono quei tagli, ma per dire che per il cervo fu comunque catastrofe, perché lo privò della sua copertura naturale e lo espose, ovviamente, facilitò enormemente la cattura del cervo. E allora immagini come queste sono diffuse in molti paesi della Sardegna e non solo, queste immagini acquistavano ancora più valore man mano che quelle macchie che abbiamo visto in precedenza e che vedrete ma un po', si ristringevano nella nostra isola sino a portarlo alla situazione che abbiamo parlato tanto. Ed ecco che il cervo scompare dalla gran parte dei boschi della Sardegna e diventa ornamento, rimane, non diventa. dove è stato posizionato nei muri in qualità di ornamento, rimane ancora a testimoniare una presenza, un passato che man mano diventa sempre e sempre più lontano. L'abbiamo vista diverse volte oggi questa drammatica immagine. Anzi, l'abbiamo vista resa ancora più drammatica dall'immagine della Corsica dove la croce del 1970 ci dice di una storia finita per sempre, apparentemente per sempre. Cosa succede? Siamo più o meno negli anni 70 del secolo scorso. Ecco, qui succede lungi dal fermarsi lo sterminio continua con metodi ancora più subdoli, ancora più cattivi, ancora più spietati e ancora più umicidiali, cavetti d'acciaio. In Terezone venivano minate con i cavetti nel passaggio obbligato, l'animale arrivava, non aveva scampo, moriva al termine di una... se era fortunato moriva subito, al termine, se invece il cavetto lo avvinghiava in maniera anomala, cioè non al collo, ma per esempio alla vita, andava incontro anche ad atroci sofferenze. Questo ha portato il cervo sardo vicinissimo allo sterminio. Fortunatamente la coscienza in qualche modo inizia a ribollire nei sardi ed è allora che siamo proprio negli anni 70 e più o meno negli anni 70 del secolo scorso c'è il cambio di qualità, c'è il cambio di passo. Il sardo si rende conto di che cosa sollecitato da tante sensibilità nonno della Sardegna si rende conto del gravissimo pericolo che sta il cervo sardo sta correndo e si cerca di correre ai ripari in qualche modo di fermare lo sterminio. E ne abicui in prima fila oggi qui ed era l'immagine di allora ma fra un po' ne vedrete di quei tempi ed era in prima fila allora funzionario dell'ente foreste ha fatto un ragionamento che gli fa enormemente onore ma che era quasi banale non può succedere nel mio tempo non può succedere mentre io sono a capo in qualche maniera di una struttura così importante che dai territori gestiti dall'ente foreste il cervo sardo scompaia in persona la figura forse più importante di paladino del cervo che già inizia a in qualche modo ad attivarsi ad attivarsi insieme a una figura scomparsa recentemente Elmar Schenk col quale condivise molte esperienze e col quale soffrì pensò elaborò insieme anche agli altri adesso parliamo di loro elaborò strategie per cercare di invertire la rotta di mio per quanto riguarda Elmar Schenk dirò un ricordo per me molto importante la mia prima cerva Davide accompagnato mi ospitò in una delle uscite autunnali per il bramito del cervo avvisandomi andiamo ma non è detto che forse li sentiamo che li vediamo è proprio molto 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 difficile definì la mia lui definì la mia presenza quella della fortuna del principiante perché a metogiorno quando stavamo mangiando un panino seduti nei monti dei monti dei monti melas alle falde dei sette fratelli una cerva si presentò e si fermò proprio di fronte a noi la foto più facile scattata in natura per quei tempi di un cervo sardo insieme insieme Enea Beccu e Del Marshen che in qualche maniera collaborarono in questo lavoro questo è il libro di Enea Beccu il cervo sardo che ancora adesso rimane un punto di riferimento preciso per chi vuole confrontarsi con la realtà del cervo sardo un lavoro straordinariamente certosino com'è nelle sue attitudini e che fu il primo documento davvero importante il primo documento di conoscenza del cervo sardo messo a nostra disposizione ricordo che lo divorai in maniera ingorda e a dir poco perché El Marshen perché la foto di copertina e tante foto all'interno delle volume furono proprio di lì erano proprio di El Marshen ed eccolo ai suoi tempi Enea Beccu con una cerva che si chiamava sarocchesa ma soprattutto col cervo primino perché primino perché la soluzione più importante che cercò di attuare il progetto più importante che portò avanti per salvaguardare con molta intuizione e aiutato anche dalle esperienze vissute altrove fu quello di creare i recinti di cattura recinti di cattura dove poter catturare i primi cervi e creare in cattività un nucleo perché ahimè non si sa mai garantire comunque un futuro al cervo sardo sarebbe bellissimo avere tempo e sentire tutte le acrobazie che dovettero fare per catturare il primo cervo perché le esperienze a cui facevano riferimento erano le esperienze sulle Alpi dove c'è la neve il cervo ha fame entrare nel recinto ed è catturato difficilmente al Monte Melas o nei Sette Fratelli o dall'altra parte c'è la neve per cui per suo poterlo catturare dovessero inventare mille soluzioni sino a quando con grande arguzia se non lo prendiamo per fame lo prendiamo per gola l'esca non era più il cibo del cervo ma le cornie varie melone e anguria primino ci cascò e fu il primo cervo catturato a Sabacallenti nel 1980 aggiungo un minuto perché è straordinario quest'altro passaggio per poter dare vita a una generazione di cervi se si è il maschio generalmente ci vuole una femmina la femmina non entrava nel recinto manco a pagarla però c'era una femmina detenuta a Bonassai nel centro di Bonassai a Totubella nel nord della Sardegna ma ahimè come spesso succede tra i funzionari degli stessi enti l'allora direttore di Bonassai non ne voleva sentire di dare la cerva a Beccu per iniziare l'avventura ed è straordinario che un uomo integgerrima come Nea Beccu ha dovuto approfittare dell'assenza del direttore da Totubella e momentanea per entrare con un'autorisione per poter entrare e prelevare la cerva quella cerva che fu che diede origine alla dinastia dei cervi che poi arrivarono anche in Corsica perché subito anche in Corsica perché da allora non appena tenete conto che era scomparso il cervo in Corsica da allora per poter avere cervi e riaprire la storia in Corsica c'erano grandi pressioni sulla Sardegna per poter avere qualche cervo un bravissimo disegnatore francese rimase tre giorni a Monte a Scannoneris e regalò in maniera benagurale questo dipinto a Beccu guardate questo qui siamo in un momento storico qui è iniziata la storia che oggi celebriamo e stiamo parlando del novembre del 1987 quando un elicottero militare perché li hanno presi con gli elicotteri militari un elicottero militare italiano non poteva andare in Corsica non poteva atterrare in Corsica salvo grande complessità giurisdizionali un elicottero francese non poteva venire in Italia per poter prendere i cervi salve grande autorizzazioni per poterli prelevare soluzione una un cerchio adesso mi viene non mi viene il nome una piattaforma per elicotteri a decimo mannu base nato di per cui terreno neutro dove Nea Beccu aspetta l'elicottero dell'esercito francese per caricare i primi cervi portarli a Quenza e iniziare la straordinaria struria che celebriamo oggi intanto in quel periodo la società sarda finalmente si liberava e si liberava in maniera straordinaria Angelino Cungiu del WWF di Oliena trova uno scheletro intero di cervo sardo nei monti sempre dei Montemelas e nei Sette Fratelli si recupera il cranio il cranio diventa l'emblema della resistenza basta allo sterminio questo manifesto ha tappezzato le paretti di tutti i paesi dell'area cervo e anche oltre intanto le grandi riviste si fanno carico del problema e lo stop allo cerminio del cervo sardo diventa un argomento pregnante e proprio questa il servizio dedicato da Irone vabbè non torno indietro lo stesso per l'acquisto di Monte Arcosu spinge come dirà Fulco Pratesi il WWF nazionale ad acquistare la mitica riserva di Monte Arcosu che allora era uno dei più importanti centri dove era presente il cervo sardo era una riserva di caccia privata le riserve furono abolite per legge i proprietari decidono di venderla il WWF non aveva soldi ma per parlare di Monte Arcosu bisogna parlare di Antonello Monni figura assolutamente straordinaria scomparsa ahimè l'anno scorso che ha dedicato era medico di professione ma ha dedicato la vita allo studio della natura della Sardegna una vera enciclopedia della natura della Sardegna e ha dedicato un impegno quasi straordinario per la conservazione del cervo sardo fu lui allora delegato regionale del WWF a farsi promotore autore tutto quello che volete di una mobilitazione straordinaria non solo sarda ma che interessò tutta l'Italia in una raccolta di fondi sfociata infine nell'acquisto di Monte Arcosu qui vediamo la storica foresteria di Monte Arcosu e qui questa è l'accoglienza che allora fu data all'istituzione della riserva e questa è un po' in breve la storia di Monte Arcosu e anche questa meriterebbe tanto tanto tempo la snervatura dei lacci montagne dei lacci che continuavano a minare anche l'interno della riserva dedicata al cervo Carlo Murgia tanto profondo professionalmente quanto dinamico mentalmente direttore storico di Monte Arcosu che ha dato vita a dei momenti di gestione ambientale davvero che hanno lasciato il segno nel rapporto tra gestione del territorio dal punto di vista natale in Sardegna i soci le guardie del WWF i soci della cooperativa del Carpifoglio le grandi attività di didattica di educazione ambientale tutto il nome del cervo e questa immagine forse simboleggia meglio di un'altra un animale che passa non più al laccio o non più sotto le fucilate non è che cade non più al laccio sotto le fucilate del braconiere ma che attraversa un sentiero e guarda i ciclisti mountain bike che arrivano i primi che arrivano a Monte Arcoso per compiere delle escursioni pare giusto chiudere con alcune immagini rapidamente del cervo sardo questo animale per cui anche oggi che oggi stiamo celebrando in natura e molto brevemente perché voglio soffermarmi soprattutto sulle ultime immagini la diffidenza delle femmine all'interno del bosco il bramito il momento straordinario del bramito di settembre oggi ho sentito parlare dei censimenti io ricordo che allora rimanevamo 4-5 giorni in foresta spostandoci inseguendo i bramiti per contare 10 cervi veramente una situazione che assolutamente era immaginabile portasse all'incontro di domani dove probabilmente si parla sicuramente si affronta il problema del contenimento del numero 10 cervi ascoltati in una settimana e oggi parliamo di contenimento del numero ancora immagini ancora del bramito in foresta gli segnali olfattivi e visivi sulla sulla gli arbusti del del territorio per marcare la presenza del marco del maschio quando non basta bramito e non bastano i segnali si arrivano alle legnate tra i due contendenti per decidere chi ha diritto di formare l'arem l'arem viene infine formato e tutto sfoccia in un bambi bellissimo il termine sardo pintu cherbinu o pintu cherbinu il dipinto del cervo per raccontare le macchiette del bambi e così nella lingua sarda veniva proprio esaltato la delicatezza di questo manto ed eccola ancora il cerviatto ecco chiudiamo con queste immagini Piscinas è un posto magico di per sé non ha bisogno di chissà qualsiasi cosa è un pezzo di deserto che è stato portato e scaraventato nel territorio di Arbus nella costa verde dove la macchia mediterranea combatte costantemente con la sabbia delle dune aumenta un po' la macchia aumenta un po' la sabbia a seconda del gioco dei venti di tutte le altre componenti che fruniscono sulla dinamica delle dune ecco allora qui può succedere questo può succedere una giornata quando la la sabbia è assolutamente priva di impronte dopo giornate di maestrale particolarmente intenso può essere certo di vedere la traccia del cervo la traccia del cervo che già immediatamente porta al sogno perché un cervo sulle dune non è roba da poco in Europa può succedere solo nel Cota Doniana solo alle focce del Guardalquivir però senza campanilismo come scenografia non c'è paragone conosco le due realtà e ho la presunzione di dire che non c'è paragone ecco allora qui può succedere questo può succedere che all'improvviso in un'immagine che di per sé ha già tutto il fascino che ha una duna che sprofonda sul mare ecco una cerbiata che dimensiona che dà una dimensione diversa che impone una naturalezza straordinaria per questa area area e che attraversa le dune i cervi le attraversano spesso le dune perché sono in mezzo a due reali e soprattutto perché d'estate qui è uno dei pochi punti dove trovano l'acqua in un fiumiciatolo che le attraversa ecco che allora un maschio all'alba si avventura scende lascia il segno in quelle in esponendosi all'aperto oppure la femmina ancora più elegante che sembra comporre una coreografia di assoluto fascino e che ci ricorda anche la storia di questo posto questo che vedete è l'unico albergo della zona che un tempo era il terminale della ferrovia che portava i minerali all'imbarcavero che è leggermente che è ovviamente sul mare queste cerve servono attraversano la macchia che combatte con la duna il mare fa da sfondo a questa corsa da cavallo andaluso del cervo sul crinale dalla duna un maschio poveroso sino all'immagine notturna all'immagine notturna che davvero quasi sembra sfociare nella fiabba di quest'ambiente che con la presenza del cervo ha un valore aggiunto assolutamente incalcolabile ho corso come un cervo però sono contento di avervi detto tutto grazie grazie Domenico grazie grazie